Vai su vivoazzurro.it e vota il Pallone Azzurro 2015. Ecco i cinque candidati per la nazionale di beach soccer selezionati dalla redazione di RaiSport. Francesco Corosiniti Il condottiero di mille battaglie sulla sabbia, uno degli artifici dell'argento olimpico di Baku e dell'oro ai giochi del Mediterraneo. Il capitano e detentore del Pallone Azzurro, Francesco Corosiniti Paolo Palmacci Record di presenze, record di reti, record di partecipazione ai mondiali, ben sei. Insomma, è l'uomo dei primati del Little Beach, Paolo Palmacci Gabriele Gori Il re delle rovesciate e il vice capocannoniere di Baku 2015. Tra i top della fantastica annata azzurra non poteva mancare il bomber Gabriele Gori. Simone Del Mestre Un portiere regista con il vizio del gol. Questo è Simone Del Mestre, l'ultimo imbalicabile baluardo della porta italiana. Dario Ramacciotti Grintoso in campo, estroverso fuori. Dario Ramacciotti è un punto fermo della Nazionale di Beach Soccer ed è il quinto candidato al Pallone Azzurro 2015. Azzurro 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 Azzurro